iniziamo lo streaming il tuo evento sta per iniziare allora ragazzi dovremmo essere online mi sono mancato mi sono mancato quanti siete online a vedere la diretta di oggi allora questa diretta come al solito visto che è una modifica le mie foto sceglieremo delle foto anzi l'ho già scelte io in realtà queste foto e le modificheremo all'interno oggi di aurora hdr perché aurora hdr perché esce domani e così almeno chi non l'ha che non ha avuto modo di vedere questo fantastico software per gli hdr ve lo faccio vedere ora in diretta che ne pensate allora innanzitutto vi voglio dire che avete tempo fino a domani per preordinarlo fino a stasera esce domani quindi lo pagate meno se lo preordinate poi utilizzando il codice crazy ring potete avere uno sconto però questo da domani da quando sarà da quando sarà disponibile non ora che è in preordine allora vediamo un po chi c'è c'è francesco c'è vincenzo c'è pag c'è joe c'è michael c'è super apple fatemi sapere se si vede bene se si sente bene l'audio se l'audio è sincronizzato con il labiale sono tornato dal mio viaggio in sicilia tutto intero ho portato delle foto fantastiche tra l'altro da far vedere ve le farò vedere prima o poi dovrò ancora c'è devo ancora tutte modificarle e scegliere quale appunto mi piacciono di più però sono delle foto molto interessanti e poi vi farò vedere ok allora queste sono le tre foto che andremo a modificare oggi cioè ne andremo a modificare una perché questa è un hdr sono tre foto a esposizione diversa diciamo che non è tantissimo di esposizione differenza di esposizione meno 07 meno no meno 070 e più 07 di esposizione fatte con un drone che poi arriverà un video anche su di quello però non so se voi avete seguito il mio instagram le mie instagram stories perché appunto c'è questo questo prodotto di cui voglio parlare che arriverà prossimamente su su anche su youtube anche su youtube un nuovo video allora la sicilia mi è piaciuta molto mi è piaciuta molto la sicilia foto purtroppo abbiamo visto diciamo tutto molto velocemente abbiamo fatto un tour della costa siamo partiti da catania siamo andati giù e proprio nel senso vedendo voi c'è nel senso voi questo ok quindi sapete da catania in alto abbiamo fatto il giro da sotto noto marzamemi pachino modica ragusa mi sono dimenticato siracusa nel frattempo e poi siamo andati verso agrigento la valle dei templi e poi su san vitolo capo castellammare e palermo queste sono state le tappe molto veloce tipo un giorno a tappa e niente niente questo qui sto caricando su 500 pixel in che senso le carico le foto si le carico utilizzo 500 pixel tantissimo secondo me è il sito diciamo il di riferimento il la vetrina di riferimento per chi vuole pubblicare le sue foto diciamo che tra quello e instagram cioè le mie principali attenzioni sono rivolte sia a quello sia instagram altri siti tipo flicker ormai secondo me non non vale neanche più la pena e diciamo sono più importanti secondo me in questo momento in questo per tutte le possibilità che ti offrono soprattutto soprattutto instagram che molto bistrattato fino a qualche anno fa ma ora veramente un ottimo programma diciamo anche per farsi conoscere questo drone scatta in raw certo che scatta in raw questo drone e non ho fatto la camminata sull'etna perché non sono andato all'etna non sono andato sopra cioè siamo andati da catania in giù non siamo andati sopra quindi niente messina niente l'etna e niente di questo ok allora vi faccio vedere il drone tra l'altro che ce l'ho qui ce l'ho qua sotto il drone ora arriverà un video un video al riguardo però il drone è questo qua si vede qualcosa o è tutto luminosissimo è un phantom 4 advanced quindi alla telecamera praticamente migliore della serie phantom migliore del mavic quindi fa le foto meglio fa i video meglio del mavic è un po più grosso però per cui la qualità bisogna che trovi un diciamo un compromesso no tra qualità e portabilità poi vi volevo far vedere anche questa arriverà un video anche su questa qui che non so se qualcuno di voi la conosce che sono tornato dalla sicilia e ho trovato questa ad aspettarmi ed è una delle cose più fiche della storia questa qui e ve ne parlerò in un futuro video ok prossimamente quindi quindi intanto intanto vi faccio vedere come funziona aurora hdr clicco su allineamento delle immagini perché nonostante siano fatte diciamo con una raffica perché sono state fatte con un'affica hdr dal drone però essendo un drone non è che che sia tra l'altro c'era anche tantissimo vento quel giorno lì non è che sia proprio stabile quindi clicchiamo su allineamento per allineare le nostre immagini tolgo la rimozione cioè attivo la rimozione dell'operazione cromatica e non attivo il ghost reduction non mi interessa faccio solamente crea hdr e aspettiamo un pochino che appunto aurora hdr crei il nostro hdr purtroppo posso dirti soltanto sono passato a salutare ciao lorenzo ciao lorenzo ti ricordi di me ormai ci sono in tutte le tue live fai davvero questo programma perché se sì finalmente ho trovato tutorial e ho avuto la conferma e tu dovresti arrivare a addirittura miliardi di iscritti magari pochi ma buoni ragazzi l'importante è averne pochini ma buoni se siano tutti come voi se è fantastico mi raccontato di 10 iscritti ma che siano bravissimi come voi e che abbiano tanta voglia di imparare allora questo programma lavora sui raw è la versione nuova 2018 esce domani lo trovate in sconto fino a domani poi da domani potrete utilizzare il mio sconto con il codice crazy ring quindi lo trovate in sconto anche domani però però questo è l'hdr che mi è stato creato da tre file dng perché questo drone scatta in raw ok questo è questa anzi è la villa dei cento camini di artimino non so se qualcuno di voi lo conosce artimino è un posto qua vicino molto carino molto dove ci si fanno tantissimi matrimoni allora vediamo un pochino come funziona questo programma ve l'ho fatto vedere nel mio tutorial l'altra settimana ma ve lo spiego velocemente velocemente qui gli hdr sono messi un genere fantastico per questo tipo di scatti qua quindi quando abbiamo tante diverse esposizioni guardate qui abbiamo tre esposizioni diverse una per il cielo che è esposto diversamente dal terreno e poi il terreno avevamo questa nuvola immensa che ci passava sopra quindi qua vedete che è scuro perché c'era la nuvola che bloccava la luce e qua giù è luminoso perché appunto passavano i raggi solari quindi quando c'è tanta differenza di esposizione consiglio sempre di fare un hdr questo non vuol dire potete poi pompare tutto l'hdr e fare una cosa del genere che secondo me una cosa del genere è una schifezza allucinante e non serve a niente quindi cerchiamo di fare una cosa un po più realistica questo programma qui ci permette di farlo alla grandissima molto meglio di lightroom molto più veloce di lightroom secondo me e vi faccio vedere appunto come fare però quindi questo è un episodio di modificare le mie foto quindi siete voi che dovete modificare le mie foto e dovete dirmi voi diciamo mi dovete dire voi anzi come vorreste questo hdr se è reale se non reale se è pompato se è poco pompato se possiamo utilizzare un preset a me piace molto per esempio a parte questo mi piace molto questo preset qua chiamato new emotions mi piace molto il genere di fotografia che crea quindi ora vado a ridurre magari l'ammontare di questo preset quindi quanto di questo preset andrà a mettere nella foto e poi andiamo a sistemare un pochino questo nostro cambio di esposizione qua su photoshop è possibile rimuovere delle eventuali immacchie sul sensore che si vedono certo ci sono tantissimi strumenti sia su photoshop che su lightroom su photoshop abbiamo il pennello di correzione al volo abbiamo il timbro clone ci sono tantissimi metodi abbiamo i riempi in base al contenuto tantissimi metodi appunto in photoshop e non è affatto difficile non è affatto difficile a proposito di instagram ma com'è possibile che la gente che fa foto mediocre abbia così tanti follower senza neanche essere visibile su altri siti o essere youtuber dipende dagli hashtag dipende dagli hashtag dipende dalle pagine che ti ritwittano magari in questo caso ti re-instagramano no come si dice non mi ricordo ti regrammano ok forse così quindi magari se una tua foto diventa un pochino virale quindi passa su altri account che ti taggano magari per quello oppure semplicemente si comprano i follower ci sono tantissime persone che i follower se li comprano infatti vedete account con 100.000 followers che ogni foto ha tipo 100-200 massimo di mi piace mi fa un po' storcere il naso questa cosa qui ho avuto la conferma che tu sei il mio idolo perché? perché? ciao a tutti bentornati siciliani e non anche per tone mapping vale la pena utilizzare questo programma? certo vale la pena utilizzarlo anche per il tone mapping se mai te lo faccio vedere dopo si può aprire solamente una foto e si può fare il tone mapping su quella foto lì ed è molto veramente cioè è veramente molto interessante ma soprattutto per la faccenda dei preset qua sotto perché la cosa bella di questo programma che chi ha visto il mio video su Aurora HDR lo sa già è che se io volessi utilizzare due preset per esempio questo e un altro io posso semplicemente cliccare su più aggiungi un nuovo livello di adjustment quindi un nuovo livello di regolazione e posso andare su un qualsiasi altro preset e utilizzarlo sopra a questo qua quindi per esempio questo qua sunset look e lo utilizzo tenendo le modifiche che ho fatto prima questo in un nuovo livello e quindi magari posso utilizzare questo filtro qua cliccando sulla maschera qua di livello ok vado a colorare solo sul cielo e do questo effetto qui rosina che fa molto molto vintage molto molto effetto tramonto vintage ok qua sopra sul sul cielo e basta e questo è il primo appena finirà di caricare e questo è il dopo vedete la differenza no? e la semplicità soprattutto di cui si utilizza questo programma qua veramente impressionante poi ora vedete che ci sono anche dei pallini nell'immagine non so se voi li vedete è perché da parte il fatto che questo scatto qua è stato fatto mi sa erroneamente a 800 ISO perché non ho non ho controllato l'ISO prima di scattare questa cosa qua però questo programma qui utilizza una diciamo per velocizzarlo utilizza delle delle regolazioni che ti fanno vedere delle immagini un po' peggio di come sarà in realtà quindi se io vado a fare esporta qua in alto a destra poi vado a esportare l'immagine me la esporta bene non me la esporta tutta a quadroni come magari si può vedere nei vostri schermi cosa che io non vedo però come ti trovi con i OnePlus 5? benissimo Alessandro è sempre qui con me è il mio telefono numero uno per ora tra l'altro ho visto che l'iPhone 8 ha fatto un bel flopettino qui nel negozio vicino a casa mia che di solito c'è sempre così dalla mattina alle 7 quest'anno non c'era nessuno a comprarlo cioè poca gente poca gente sono passato da Grigento? si sono passato da Grigento Jerry però pochissimo sono passato da pochissimissimo ho fatto tipo la Valle dei Templi e basta poi siamo andati su a salvitolo capo si è visto soltanto Valle dei Templi e Scala dei Turchi l'unica cosa ci siamo stati neanche un giorno a corsa proprio ciao Alessandro certo che ti saluto ma sotto al Phantom è possibile collegare la propria fotocamera? allora sotto al Phantom Vincenzo c'è già la sua fotocamera e in caso del 4 Pro Pro o il 4 Advance come ho questo qua io non si può collegare la propria fotocamera perché c'è già ed è la fotocamera migliore di tutta la linea Phantom e di tutta la linea Mavic anche perché il Pro il 4 Pro e il 4 Advance hanno la fotocamera migliore ha un sensore da un pollice fanno i video in 4K a 60 frame al secondo sono veramente dei video ottimi la stabilizzazione è qualcosa di allucinante lo stavo provando appunto purtroppo mi è arrivato il giorno prima di partire per la Sicilia tipo un giorno prima di partire per la Sicilia non so se avete visto i video su Instagram appunto che mi segui su Instagram si lo ho già visto sui miei video l'ho avuto modo di provarlo pochissimo perché tirava un sacco di vento pioveva infatti questi nuvolone qua portavano acqua e basta qua giù pioveva e così via e quindi purtroppo sono riuscito a provarlo veramente poco ma vi prometto che arriverà un video dettagliato a breve ok a breve diciamo un paio di settimane datemi un paio di settimane e arriverà un video fantastico spero su questo aggeggino qui ci sono altri droni però Vincenzo altri droni in cui puoi attaccare la fotocamera non è il caso del Phantom però provo a fare un HDR molto tunber quello da tipo pilati in viaggio no? se vai in vacanza questo è il droni si vede si vede una grana incredibile nel cielo si Daniele si vede a parte il fatto che mi sa che è la schermata del programma te l'ho detto prima e poi è perché ho ingrandito lo schermo qui nella diretta in realtà è un po' più piccolino e quindi magari ha creato un po' di grana lui ma non c'è così tanta grana poi ve l'ho detto prima stavo scattando mi sa 800 ISO perché stavo utilizzando il profilo per fare i video e se utilizzi il profilo per fare i video che è un D-Log mi sembra il P-Log non mi ricordo neanche come si chiama credo D-Log perché è DJI-Log ti blocca gli ISO a 500 o a 600 quindi quando sono andato a fare la foto mi sa che non ho abbassato gli ISO e quindi questo vi è fatto a tantissimi ISO quindi però non importa nulla perché noi abbiamo l'HDR D-Noise in cui possiamo andare appunto a sfumare il nostro rumore quindi a togliere il rumore nel nostro HDR possiamo anche sfumarlo meglio meglio di così e questo visto che si tratta di questo livello qui andrà a utilizzarlo solo sul cielo vedete se io vado a togliere questo appunto livello qua è soltanto quello che ho fatto sul cielo quindi il D-Noise viene applicato solamente in questa parte qua ora però facciamo un altro livello per la parte sotto perché io voglio questa parte sotto qua che è tanto scura la voglio più chiara diciamo che voglio un pochino andare a unificare queste mie queste mie tre esposizioni diverse quindi 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 abbiamo realistic bright che è un po' questa cosa qua troppo il problema di alzare tantissimo l'esposizione come dicevamo prima è che poi ti introduce tantissimo rumore quindi è come se io alzassi l'iso nella macchina fotografica se io faccio una foto a 3200 iso ho più rumore di una foto a 200 iso quando andiamo con i nostri programmi tipo lightroom photoshop oppure questo aurora hdr attirare sull'esposizione in post produzione cosa facciamo semplicemente aumentiamo il rumore digitale anche qui quindi dobbiamo stare sempre attenti a non alzare tantissimo l'esposizione in questo caso io l'ho alzata tantissimissimo perché se vi ricordate anzi faccio vedere il primo e il dopo questo era il primo guardate come è scuro guardate come è scuro e questo è il dopo cioè nel senso il dopo è molto più chiaro del prima quindi andiamo noi magari a fare una cosina andiamo a fare una pennellatina solo sul sotto qua giù in modo da da unificare il sotto e il sopra ok così questa parte qui come ho detto prima la proviamo a alzare un pochino di esposizione appena appena anche troppo così magari uno aumento la vividezza perché voglio più vividezza nei colori voglio più verdi molto tumbre se l'ho detto quindi se vogliamo fare foto molto tumbre ci vuole tanto colore e poi e poi andiamo anche qui a togliere leggermente un po' di rumore il fatto di togliere il rumore quindi di fare il denoise ci sfuma tutta l'immagine quindi avremo un'immagine un po' più sfocata del di quello prima quello che abbiamo fatto prima magari questa parte qua la volevo scura questa parte qua è bella scura vediamo un po' cosa succede come ti trovi con la 7R2 usando la livello professionale matrimoni allora mi trovo bene secondo me è una grande macchina c'ha un unico difetto e vi dico qual è il difetto l'ifetto è che è lentissima e questo è perché i file sono da 80 megapixel si da 40 megapixel da 80 megabyte a foto quindi ogni foto pesa tantissimo e il problema appunto è che è lentissima anche se avete una scheda velocissima una SD card velocissima è molto lenta a scrivere i dati questo succede sempre praticamente sempre quando vado a scattare quindi quando faccio la raffica dopo diciamo un 5-6 scatti di raffica si blocca per qualche secondo per registrare i dati ho provato con tutte le schedine SD e fanno tutto lo stesso risultato il problema appunto è questo qui questo è l'unico problema che gli trovo nella 7R2 poi per il resto è fortissima infatti non vedo l'ora che così esagerato non vedo l'ora che facciano un magari cioè nel senso perché è così lenta perché è così grande il sensore no? e se facessero una macchina del genere con magari invece che il sensore da 40 megapixel pixel che secondo me è anche un po' inutile per certi versi ma con un 20 megapixel per esempio se facevano la 7R2 con il sensore della della anzi no scusa la 7R è così perché punta su avere il mega sensore se facessero la 7R3 senza R senza S con le stesse funzionalità della 7R2 quindi se avesse il video 4K se avesse una messa a fuoco veloce come la 7R2 io passerei tranquillamente alla 7R3 poi se mi mettono anche il touchscreen che non fa mai male e mi mettono anche il cos'è che volevo aspetta volevo il touchscreen e poi c'è un'altra cosa che mi sarebbe interessata molto che ora non mi ricordo anche poi nella 7R2 c'è il viewfinder l'eye autofocus a autofocus autofocus sull'occhio sull'eye quindi è una cosa che non ha l'A7 normale volevo togliere però questo livello da qui ok cosa ne dice un po' di sbiadire quel cielo blu a sinistra sulle nuvolette o lo facciamo quindi a sinistra questo qua come ho detto prima se lo andiamo a sbiadire poi ci viene tantissimo rumore nell'immagine ma poi dipende se la dobbiamo mettere su Instagram e la rimpiccioliamo tantissimo nessuno noterà il rumore su questa foto ok quindi stessa cosa possiamo fare anche possiamo anche dipingere con più esposizione sulla villa qua e magari io posso andare a fare un pennellino piccolo tipo così e colorare sulla strada ok così facciamo un'altra cosa facciamo un altro livello di regolazione e facciamo un livello di regolazione con 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 il dodge and burn che questo programma qui avendo il dodge and burn è molto interessante che stavano il dodge and burn nei paesaggi mi piace tanto che come ho detto nel mio video c'è chi mi dice ma perché fai il dodge and burn nei paesaggi perché perché sì perché merita tanto ora non così tanto se no poi viene una schifezza perché c'è la strength al 100% noi la vogliamo al 6% tipo una cosa del genere poi ho visto che ha introdotto un sacco di rumore non so se lo vedete voi c'è un sacco di rumore cromatico questo è per il fatto come dicevo prima della troppa troppa esposizione che ho aggiunto io poi quello lo sistemiamo magari c'è un metodo semplice semplice per sistemare questa cosa qua mi consigli la 1300 per iniziare sì ti consiglio la 1300 per iniziare non la di 3300 semplicemente per il fatto che con la 1300 se no me ti trovi alla grande costa pochissimo hai un sacco di soldi in più per comprare degli obiettivi che potrebbero essere gli un nuovo hai un sacco di soldi per comparti magari degli accessori tipo un treppiedi un pulsante di scatto remoto o chi più ne ha più ne metta quindi sì ti consiglio assolutamente di prendere la 1300 che ha tutti gli strumenti secondo me che possono servire all'inizio per la fotografia spenderei di più per la 3300 o la 3400 della Nikon no non lo spenderei di più per queste macchine ok ho fatto il Dodge & Burn quindi vediamo prima Dodge & Burn questa è prima questo è il dopo questo è il prima questo è il dopo si vede la differenza un pochino si vede cosa avevamo detto che si doveva fare poi non mi ricordo cosa dovevamo fare non mi ricordo che si doveva fare ditemelo un po' voi la 7R2 non ha problemi di autofocus Marco per quanto mi riguarda è velocissima nell'autofocus con tutte le lenti che uso io solamente con le lenti Canon che io avevo delle lenti Canon ho ancora delle lenti Canon perché non le venderò mai quelle lenti Canon lì sto ancora aspettando una mirrorless full frame con attacco EF io non ha praticamente problemi di autofocus con le lenti native e con le lenti adattate diciamo quindi utilizzando un Comlight utilizzando il Metabones nonostante la gente dica è velocissimo con il Metabones con il Metabones sembra di usare delle macchine Canon no non è vero c'è sempre un delay incredibile nell'autofocus soprattutto per i video è inutilizzabile cosa ne penso della D500 in campo video la D500 più che altro poster la vedo come una macchina veloce quindi una macchina per lo sport più che per i video per i video magari ci vedrei bene anche una macchina molto meno costosa anche una 80D della Canon secondo me va benissimo per i video per quanto mi riguarda oppure una 6003 della Sony quelle lì sono macchine più propense all'utilizzo nel video la D500 della Nikon secondo me a parte il fatto che io le Nikon per i video le sconsiglio quasi sempre perché hanno molte meno funzioni delle altre macchine però se non hai altro cioè nel senso se devi scegliere una macchina fotografica per farci video prendi quella che riesce a permetterti io se dovessi scegliere una macchina per fare magari solo i video prenderei la 6300 o la GH5 della Lumix avete scritto un sacco di domande ragazzi per il 60% foto e il 40% video la Nikon D5500 o la 70D nessuna delle due io ti direi l'80D l'80D è molto molto meglio della 70D per i video per quanto riguarda i video ha un dual pixel autofocus migliorato rispetto alla 70D ha lo schermo che si muove ha il wifi ha un sacco di funzioni in più rispetto alla 70D e la messa a fuoco è molto migliorata rispetto alla 70D mi sa che questo file non ha una gamma dinamica non ha una gamma dinamica più lo tocchi più si pasticcia un po' è perché è stato scattato anche Daniele con pochissima variazione di esposizione nel senso che le tre foto erano a meno 07 più 07 e quindi non c'è una così tanta variazione dell'esposizione per quello magari devo controllare un pochino meglio sul Phantom come si faccia a fare le esposizioni a allungare queste esposizioni perché se fosse possibile solamente fare meno 07 più 07 sarebbe un po' sarebbe un po' inutile la cosa come si fa a correggere bene la foto colore eccetera su Photoshop dipende Zetros dipende da cosa devi farci non è che ti posso dare un consiglio generale su questa cosa comunque questo era il primo questo era il dopo vi faccio vedere divisi vedete come è cambiata molto l'esposizione e per quello c'è tanto rumore che possiamo comunque andare a togliere semplicemente utilizzando un filtrino all'interno di Photoshop oppure andando a togliere il canale dei Magenta proviamo a fare una cosa proviamo a distruggere il canale dei Magenta cioè il il Magenta sotto il dove cavolo è finito eccolo qua Hue and Saturation distruggiamo la saturazione e la tonalità del Magenta ed è già migliorato rispetto a prima abbiamo ucciso tutti i Magenta nella foto e anche nello sfondo e ecco in questo caso però possiamo fare possiamo andare a togliere ok ieri ho smontato la mia 77 tubo eccoci cose brutte a parte smontare le macchine fotografie da sole io non consiglio mai di farlo meglio portarlo a qualcuno che sa fare per rischiare di non distruggere ancora di più la macchina fotografica hai mai provato una media formato tipo un Hasselblad ho provato Vincenzo la Pentax del media formato e per alcuni lavori ed è stata veramente un'ottima macchina diciamo che me l'hanno concesso di utilizzare questa macchina per alcuni lavori molto molto interessante come gamma dinamica come macchina per il ritratto io ho utilizzato in quell'ambito lì molto molto interessante volevo provare la Fujifilm quella nuova medio formato ora se riesco a provarla domenica no sabato prossimo quindi non questo sabato qui sabato prossimo a Bologna c'è il Fuji X Tour che non so se fanno provare anche la GFX però io ci andrò tanto per vedere se c'è qualcosa di interessante perché non c'è nel senso faranno provare un pochino di cose quindi se anche voi siete di Bologna sabato prossimo è tutto gratuito il Fuji X Tour ho provato ho avuto modo di provare il 1635 F4 o no non ho avuto modo di provarlo Francesco quindi mi dispiace non so che dirti cosa ne pensi della D500 in ambito video l'ho già letto era detto di schiarire l'azzurro del cielo a sinistra per uniformare il cielo ma magari basta abbassare la luminanza del blu se no potremmo sparare la luminanza del blu tipo una cosa del genere tipo così molto più scuro lo vogliamo bello schifo ma io direi che possiamo anche fermarci qui perché ho paura che poi si rovini troppo questo file qua e come ho detto prima se lo devo mettere su Instagram va benissimo così perché voi lo vedete grande io già ho ingrandito questa schermata rispetto a quella che vedo io quindi già il rumore c'è per quello magari vedete i pixeloni grossissimi voi se questa immagine qui la devo mettere su su Instagram va benissimo così perché il rumore non si vede e dopo si fa una prova la metto su Instagram e vi faccio vedere quindi se mi seguite su Instagram dopo la troverete su Instagram questa mia immagine così andrete andremo a vedere perché è venuta così non si sa però però io volevo fare questa cosa qua ok no ne risentavo tutto perfetto uccidiamo anche un po' i verdi possiamo uccidere anche un po' i verdi a me i verdi piacciono però magari sono un po' eccessivi effettivamente le ha un po' di saturazione magari facciamo una cosa spostiamo i verdi più verso il giallo e facciamo un po' un genere più autunnale ok una cosa di questo tipo va servirebbe di fare il log che Nico non alza cosa siano purtroppo per fare i video diciamo che Nikon ha delle funzioni in meno rispetto alle altre macchine e costa di più soprattutto per quanto riguarda anche l'autofocus se volete fare i video con l'autofocus con Nikon è molto più diciamo difficile farli che con Sony che con Canon con i Dual Pixel autofocus secondo me è molto meglio è molto meglio il mio programma preferito per modificare le foto è sempre Lightroom Lightroom è sempre il mio programma preferito e se la gioca con Capture One per fare gli HDR questo qui è molto buono questo qui mi piace moltissimo per fare gli HDR perché è l'unica cosa che può fare questo programma e poi cos'altro programma ci sono che altri programmi Snapseed su Android e su iOS quindi su cellulare mi piace tantissimo Snapseed che è un programma che se non conoscete andate subito a vederlo che è il miglior programma per editing fotografico quando siete a giro poi cosa c'è cosa mi sono perso cosa mi sto perdendo di software interessanti non mi vengono in mente altri software interessanti per modificare le foto io ho una EM10 Mark II e non mi trovo con la tenuta ISO ci sta il passaggio XT1 allora il problema magari più grande delle micro 4 terzi è quello è che non reggono tantissimo gli ISO e anche già a 800 ISO come questo sensore qua abbiamo tantissimo rumore è il problema appunto maggiore delle micro 4 terzi se passi a Fujifilm sicuramente migliori il tutto la tenuta delle Fujifilm è veramente fantastica a ISO io tipo che ho questa qua ora a portata di mano questa che è quella che ho portato in Sicilia ho usato soltanto questa scatto tranquillamente a 1600 ISO senza problemi e mi piace tantissimo il file che produce lo postproduco con Lightroom nonostante tutti dicano che Lightroom non rende giustizia ai file della Fujifilm secondo me basta saperlo usare e poi noterai tantissime migliorie per quanto riguarda anche altri aspetti della macchina magari non avrai le ultime funzioni come ha l'AM10 II però noterai un file più polito un file più nitido sotto alcuni aspetti con le lenti Fujifilm vai sul sicuro che sono delle lenti fantastiche costano un po' di più delle lenti 2-4 terzi però sono lenti fantastiche quindi 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 guardiamo un po' prima dopo prima dopo prima dopo c'è una grande differenza nell'immagine c'è una grande differenza nell'immagine per quello abbiamo tantissimo tantissimo rumore ma come ho detto prima se lo mettiamo su se lo mettiamo su Photoshop su Instagram scusate se lo mettiamo su Instagram non avremo nessun problema quindi io vado a esportare questo file ok quindi vado a fare esporta immagine e si dai dng no jpeg jpeg magari a 9 esporta c'è già c'è già no c'è già aspetta c'è già un file con lo stesso nome allora nominiamolo modifica esporta sns hdr è anche buono per gli hdr appunto questo è molto è tutta un'altra cosa rispetto a sns ci sono tantissime funzioni in più che sns non ha anche soltanto per esempio tutti questi strumenti che lo rendono molto simile ora sta esportando quindi non posso andare su giù con la rotellina mannaggia mannaggia non posso andare su giù con la rotellina allora ragazzi chi è che non mi segue su Instagram e vuole vedere cosa è questa volete vedere cosa è questa poi stacco la diretta e vi saluto però prima volevo farvi vedere cosa è questa mi va di vedere cosa è questa o non mi va di vedere cosa è questa volete sapere cosa è questa o non volete sapere cosa è questa che differenza c'è tra usare una micro sd con adattatore o un sd normale soprattutto dal punto di vista della velocità di scrittura velocità di scrittura per il 4k grazie allora dipende da come è fatto l'adattatore in teoria in teoria se l'adattatore è buono e la schedina è buona non ci dovrebbero essere differenze però se dobbiamo utilizzare una schedina ad alta velocità io utilizzo sempre una sd per esempio io se devo utilizzare una sd ho questa se devo utilizzare una micro sd c'è questa c'è questa cioè nel senso sono due utilizzo due strumenti diversi poi magari lì cioè nel senso preferisco avere strumenti che vadano bene e poi utilizzo questa possiamo metterci l'sd micro e sd normale usb 3.0 per avere la massima velocità la massima velocità per quando andiamo a importare i nostri video e le nostre foto scusa la domanda lo avrai già sentito mille volte ma non ho ancora sentito il tuo parere Lightroom è migliore di Photoshop secondo te grazie sono due cose diverse sono due cose diverse che magari puoi mettere sullo stesso piano Lightroom e Camera Raw Lightroom e Photoshop sono due cose diverse sono due cose veramente diverse e Lightroom e Camera Raw sono la stessa cosa nel senso che Camera Raw utilizza lo stesso motore che c'è in Lightroom solo che Lightroom ha più funzioni tipo ti puoi fare stampare le foto ti puoi creare un foto libro ti puoi spedire le foto a una galleria web ti puoi fare esportare le foto su questo ti mantiene tutto un database di foto e per andarle a modificare tutte on the fly Camera Raw è la stessa cosa soltanto che lo puoi fare con una foto o una batch di foto quindi un gruppo di foto puoi farlo però non hai tutta quella gestione del catalogo come a Lightroom Photoshop a cosa serve? Photoshop serve a modificare ulteriormente l'immagine Lightroom Camera Raw servono per i file raw Photoshop serve dopo che abbiamo già sviluppato il file raw oppure se vogliamo sviluppare il file raw in un modo diverso magari convertendolo in tiff e poi andarlo a lavorare con i filtri di regolazione e così via ma sono due cose completamente diverse anche Luminar è una cosa completamente diversa rispetto a Lightroom non gestisce tutto un catalogo Luminar è un editor diciamo come può essere Instagram come può essere Snapseed come può essere Aperture del Mac sono due cose diverse purtroppo Lightroom è unico Lightroom è veramente unico se magari vogliamo paragonare qualcosa a Lightroom come funzionalità Capture One è quello che gli si avvicina di più ma anche Capture One ha degli aspetti negativi rispetto a Lightroom non ha una gestione del catalogo così eccellente come c'è la Lightroom i colori sono fantastici cioè se dovessi lavorare sui ritratti e lavorare sui colori Capture One sarebbe la mia scelta numero uno però Lightroom è troppo più comodo di Capture One cioè nel senso Lightroom è veramente la cosa più comoda è per quello che utilizzo il 99% delle volte Lightroom ed è per quello che ho preso la Loop Deck ok per quello è il motivo principale Lightroom lo consiglio a tutti a tutti quelli che scattano in RAW il 99% delle persone non ha neanche bisogno di esportare la foto in Photoshop se non hai da fare dei foto ritocchi avanzati oppure dei ritocchi molto difficili sono cose che puoi fare tutte all'interno di Lightroom anche una cosa come abbiamo fatto su questo su questo programma qua su Aurora HDR sono cose che possiamo fare anche all'interno di Lightroom senza stare a scomodare Photoshop quindi con i pennelli di regolazione con i filtri graduati filtri radiali abbiamo tantissimi strumenti abbiamo una cosa eccezionale è una cosa eccezionale Lightroom e Luminar è un piccolo Photoshop quindi una specie neanche Daniele perché Luminar non ha tante funzioni che ha Photoshop diciamo che è molto molto più a cosa te lo posso paragonare Luminar Luminar te lo posso paragonare a uno dei filtri della della Nik Collection ok quelli di Google solo che Luminar è aggiornato ed è molto più veloce è molto meglio c'è un po' più cose rispetto a ai filtri della Nik Collection tipo ColorFX e così via però non è Photoshop sono due cose diverse sono due cose diverse magari te lo faccio vedere che ce l'ho anche qua Luminar che ho scaricato la versione nuova tra l'altro di Luminar perché ora è uscita la versione nuova guardiamo un po' se riesco a farvelo vedere anche a voi cattura schermata e guardiamo un po' se riesco a far vedere la schermata di Luminar wow wow sta andando in palla tutto OBS ok vediamo un po' se riesco a farvi vedere qualcosina mi sa che non non lo carica Luminar OBS ok c'è qualcosa che non va con con Luminar quindi vediamo un po' se riesco a farvelo vedere in un altro modo vediamo un po' ok allora così dovreste vedere Luminar però lo vedete male lo vedete strano quindi niente niente da fare vedremo vedremo un po' come fare per far vedere Luminar ragazzi magari facciamo un altro video su Luminar perché è molto interessante ma è completamente diverso da foto diciamo che non lo voglio neanche paragonare a foto è molto comodo molto veloce però ci fai meno cose però se dovete fare qualcosa di velocemente cioè più velocemente possibile è la cosa più più veloce della storia per andare a modificare le foto cosa ne penso della Sony A7R della A7II come dicevo prima secondo me la A7R è una macchina diciamo perfetta per quello che offre l'unica cosa è che è lenta nella scrittura dei file e poi poi cos'è che dicevo magari ci vorrei il touchscreen che non che non c'è purtroppo magari con il touchscreen sarebbe più interessante però non ha niente che non cioè mi ci trovo bene diciamo mi ci trovo bene l'A7II normale secondo me sarebbe un'ottima macchina se avesse anche i video 4K se avesse i video 4K sarebbe una macchina fantastica non hanno messo i video 4K nell'A7II perché se no nessuno la comprava l'A7R o l'A7S anche io cioè nel senso se l'A7II faceva i video 4K io ho preso l'A7II perché di 40 megapixel non me ne faccio neanche tanto allora questa è la loop deck faccio vedere cosa è la loop deck sembra di essere un digit tra l'altro questa è per Lightroom abbiamo tutte le cosine per Lightroom vedi questa possiamo ruotare l'immagine possiamo ruotare l'immagine possiamo andare a modificare tipo esposizione contrasto vividezza chiarezza tutte queste ruotelline tastini per mettere le stelline insomma è una cosa fantastica e arriverà un video anche su questa qui quindi arriverà un video sul drone arriverà un video su questa arriveranno diversi video spero di farcela a farli tutti belli e a farli interessanti ok ragazzi per il resto io direi di chiuderla qui questa ma ci vedrei ancora un'altra volta il prima e il dopo di questa foto questo era il prima ma il dopo dopo prima dopo prima e quindi se avete qualche altra domanda vi rispondo velocissimamente se no direi di chiudere qui ci vediamo settimana prossima con una nuova diretta un nuovo video vediamo un pochino se riesco a fare quello della della loop deco del drone prima di settimana prossima con che drone è stata scattata questa foto con un phantom poi lo vedrete vedrete tutto e magari faccio una foto anche meglio di questa perché c'è un sacco di rumore perché era sotto e sposta a bestia quindi ragazzi è stato un piacere noi ci vediamo settimana prossima grazie a tutti quelli che sono riusciti a passare quindi tutti i ragazzi davvero non ce la faccio a leggervi tutti perché siete tantissimi ma grazie veramente per essere riusciti a passare anche oggi in questo mercoledì come al solito noi ci vediamo mercoledì prossimo puoi fare un video per chi vuole modificare le foto delle prime armi Alessia vai sul mio canale ci trovi tantissimi video tantissimi video Alessia sulla modifica delle foto basta che scorri giù nella playlist ne trovi veramente veramente tantissimi consiglio una tavoletta grafica entry level entry level una tavoletta grafica ti consiglio la Wacom foto la Wacom foto che costa il giusto costa il meno di 100 euro e ha tutti gli strumenti tutte le funzioni per per migliorare il proprio stile e per migliorare la velocità di editing Wacom questa qui la Wacom secondo me è la marca di riferimento per quanto riguarda le tavolette grafiche Alessia come ho detto prima vai a vedere i miei video precedenti a questo ok ne trovi tantissimi puoi starci tutto il tempo che vuoi a vederli e imparerai tantissimo spero noi ci vediamo la prossima settimana ciao ragazzi